Abbiamo chiesto i nomi alla Procura della Repubblica, appena arriveranno sul tavolo del Comune applicheremo scrupolosamente la norma, né più né meno, è quanto dichiara il Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, a proposito dell'inchiesta sull'assenteismo a Palazzo San Francesco che vede coinvolti 46 furbetti del cartellino. Come si sta muovendo il Comune alla luce della legge Madia? Noi ad oggi stiamo ancora in attesa di avere comunicazioni ufficiali dalla Procura perché chiaramente senza avere queste informazioni circostanziate non sarà possibile fare nessuna valutazione procedimentale e quindi tantomeno avviare i dovuti provvedimenti disciplinari laddove ci siano delle evidenze. Avete chiesto i nomi alla Procura? Sì, abbiamo chiesto avere delle lucidazioni rispetto a quanto abbiamo appreso dagli organi di stampa Quali saranno i provvedimenti che si adotteranno appena il Comune avrà i nominativi? Si adotteranno i provvedimenti previsti dalla norma. Noi applicheremo la norma, ci sarà un ufficio per il procedimento disciplinare che avvierà nei tempi previsti dalla legge tutto l'iter e si addiverrà a quelli che saranno poi i provvedimenti che i vari casi specifici richiederanno né più né meno.